Ahiaiaiaiaiaia... Mauro, Mauro lascia stare Babbo Natale! Aiaiaiaia! Mauro, ma non si dà n'è morsi a Babbo Natale! Dai! Ciao ragazzi, oggi vi porto con me nel villaggio di Babbo Natale. Finito Ragazzi guardate I lingotti d'oro Ragazzi siamo in una nave pirata Piena di tesori Mauro te l'avevo detto Che ti dovevi mettere il papillon rosso Il papillon natalizio Perché qui è tutto rosso Il papillon natalizio Ci sono anche le foche natalizie Ragazzi Mauro si è nascosto Lo troviamo Ragazzi lasciate un like Se trovate Mauro Ragazzi Spero tanto che questo villaggio di babba natale Vi sia piaciuto Il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto il video E questo villaggio di babba natale Iscrivetevi al mio canale E al canale e al canale di mamma di E ciao ciao da Leonardo Mauro e questo gigante villaggio di babba natale Ciao Ciao Grazie.